Il grip è fondamentale per tirare dritta la pallina. Allora, il pollice, pensando che la parte alta del grip è mezzogiorno e la parte laterale sono le tre di pomeriggio, dobbiamo mettere il pollice all'uno e mezza. Per cui, da qui, girarlo all'uno e mezzo, ma girare non solo il pollice, tutta la mano in senso orario. In modo tale che il dorso della mano e il pollice sfacciano una linea che una volta appoggiato sul grip, questa linea guardi la spalla destra. La mano destra è la nostra faccia del bastone, per cui la posizioniamo davanti con il palmo della mano che guardi il bersaglio, andiamo a mettere il pollice dentro la linea della vita, andremo ad appoggiare il mignolo sopra l'indice della mano sinistra e chiuderemo le altre dritta sul grip, con il nostro pollice che andrà a creare un'altra linea che è parallela alla prima, che guarderà anch'essa alla spalla destra. Perfetto. Ora.